Un'altra piaga, possiamo così chiamarla, è quella del sostegno. In questi giorni ci sono stati casi anche di mamme, di genitori che hanno ritirato i propri figli perché gli oltre 50.000 insegnanti con supplenza annuale, i cosiddetti posti in deroga, ancora non sono stati nominati. Quindi, ecco, si è fatto tanto, abbiamo avuto l'ultima riforma con una parte dedicata al sostegno ma di fatto il problema rimane, anzi si sta ingigantendo anche perché ogni anno ci sono circa 10.000 alunni disabili in più iscritti. Anche in questo caso le chiedono i lettori della tecnica della scuola cosa avete intenzione di fare? Allora, anche qui esiste un problema endemico particolarmente significativo. Noi in Italia abbiamo una popolazione studentesca che si riduce e al tempo stesso proporzionalmente aumentano i casi di sostegno di ragazzi che hanno bisogno del sostegno. Quindi anche qui la scuola italiana sta affrontando una dinamica epocale particolarmente complessa. L'Italia è però uno dei pionieri dal punto di vista delle scuole inclusive quindi noi vogliamo mantenere assolutamente, cosa che non esiste in molti altri paesi, la possibilità di un'inclusione totale delle persone con disabilità all'interno delle scuole ordinarie. E poi c'è un problema anche di carattere amministrativo, cioè da un lato ci sono problemi di risorse ma dall'altro noi riscontriamo sempre di più una lentezza nel modo in cui le persone riescono ad arrivare in cattedra. Questo vale per gli insegnanti in generale ma anche in particolar modo per gli insegnanti di sostegno. Su questo stiamo cercando di intervenire già da subito. Allora, prima di tutto io ho stanziato 5 milioni di euro immediatamente per fare in modo che si potessero fare corsi di formazione nelle scuole anche al personale che non è di sostegno perché il futuro è il futuro in cui la scuola nella sua interezza come corpo collettivo si prende cura di tutti, anche di chi ha bisogno di un'attenzione particolare. Quindi questo è molto importante. Due, abbiamo bisogno di più risorse per avere insegnanti di sostegno formati. Questo è il secondo problema. Noi abbiamo tanti insegnanti di sostegno che però in realtà non sono necessariamente formati per il sostegno. Sono insegnanti che hanno studiato per altre classi di concorso e il sostegno diventa una possibilità per esercitare la professione e poi magari nel tempo acquisire quell'anzianità che permette il passaggio esatto, di ritornare sulle cattedre originarie. Questo è da un certo punto di vista un problema, anche una risorsa perché ci sono molte persone disponibili ma un problema perché la persona deve essere formata, altrimenti fa un pessimo servizio per se stesso e per le famiglie, per i ragazzi, le ragazze che hanno bisogno del loro sostegno, per le famiglie e per la classe e la comunità scolastica in generale. Quindi un'altra cosa che stiamo facendo, per esempio con molte università, che si sono rese disponibili, stiamo ampliando i numeri che permettono agli insegnanti di formarsi sul sostegno presso i TFA universitari. Anche lì esistono università che hanno delle possibilità in più, con un minimo di intervento anche finanziario del Ministero si può dare più posti affinché si possano velocizzare e ampliare i numeri del TFA sul sostegno. Nel medio termine quello che noi dobbiamo fare assolutamente è velocizzare, anche qui la macchina è complessa, però velocizzare le varie strutture ministeriali dal livello nazionale a livello regionale e provinciale per fare in modo che i ragazzi che quest'anno hanno dovuto soffrire questa vera e propria indecenza di non sentirsi, di non avere, a volte non averne niente di sostegno, a volte avercelo per una, due, tre ore al giorno, il che vuol dire avere un servizio di scarsa qualità, non potersi integrare nella scuola. Io immagino da padre come possono vivere le famiglie che affidano i propri figli a una struttura scolastica senza avere la certezza che qualcuno formato e competente li aiuti. Se questo è vero per un bambino o una bambina in condizioni di normo dotate, immaginate quanto possa essere vero per ragazzi e ragazze che hanno delle disabilità. Quindi è estremamente importante che questo accada. Io conto sul fatto che con maggiori risorse, con una formazione complessiva, anche nei confronti di chi non fa sostegno, ma chi fa scuola in senso più generale, si possa arrivare nel tempo più rapido ad una soluzione. Incidentalmente, ve lo dico, la prima cosa che ho fatto è ricostituire l'osservatorio sull'inclusione scolastica, che per non so quale ragione non veniva costituito da mesi, e attraverso loro iniziare due percorsi sui piani educativi individualizzati, sui gruppi di lavoro per quanto riguarda il sostegno, per fare in modo che se arrivi a settembre non con un colpo di mano o questa bomba che ci scoppia in mano, ma con un percorso chiaro che ci porti a capire già dai mesi precedenti se esistono dei coli di bottiglia o delle regioni che stanno indietro rispetto ad altre e come intervenire. Questo lo hanno molto caldeggiato le associazioni di riferimento, io sono molto contento di poter lavorare con loro.